Prato e il polo universitario di Sesto sono più vicini. È stato inaugurato oggi il ponte sul tratto dell'asse stradale che congiunge Firenze con Prato, noto con il nome di Mezzana Perfetti Ricasoli. Il lotto che è stato aperto al traffico, denominato 5B, è stato programmato dalla regione e realizzato dalla città metropolitana di Firenze, mette in comunicazione via Allende nel territorio comunale di Campi Bisenzio con via Parri nel territorio di Sesto Fiorentino. Passando sopra l'autostrada 1 con un cavalcavia lungo circa 160 metri, progettato e realizzato dalla società autostrade nell'ambito delle opere correlate alla realizzazione della terza corsia della 1 nella tratta da Firenze Nord a Firenze Sud. Si tratta di un'opera attesa da molti anni che finalmente vede la luce, anche se al totale completamento dell'asse stradale da Firenze a Prato mancano ancora i lotti 6 e 7. Ci è voluto troppo tempo, però andiamo avanti, come a volte accade per le opere infrastrutturali. Però andiamo avanti e l'attrezzamento della piana in maniera adeguata prosegue. Ci sarà poi l'otto sesto e l'otto settimo, poi ci sarà anche da discutere del raddoppio di questa arteria importantissima. Il Comune di Prato ha contribuito all'opera con un finanziamento di 461.196 euro.